L'I70 fu un anno memorabile per Cicerone agli inizi della sua carriera forense e politica. Egli fu infatti chiamato dai siciliani a difenderli contro Verre, governatore della Sicilia che si era macchiato di ogni sorta di malefatta e sacrilegio. Cicerone, che era stato qualche anno prima nel 75 questore dell'isola e si era fatto apprezzare per la sua onestà e per il suo senso di giustizia, fu ritenuto dai siciliani la persona adatta a cui affidare la propria difesa. Contro Verre, Cicerone scrisse sette discorsi, le famose verrine, che rappresentano il più grande tour de force dell'oratoria di tutti i tempi. Il processo ebbe inizio il 5 agosto e si concluse con la condanna dell'imputato. A inizio la prima fase del dibattimento. Prende la parola Cicerone. Verres reus in judicium aductus est. Verre è stato sottoposto a processo. Quis est Verres? Chi è Verre? Omo quem omnes vita atque factis damna verunt qui tamen sperat se pecunie sue magnitudine absolutum iri. Chi è Verre? È un uomo, omo, quem omnes che tutti hanno condannato damna verunt vita actue factis per la sua vita e per le sue azioni. Il quale qui tamen tuttavia sperat, spera di essere assolto, spera che verrà assolto absolutum iri per cosa? Per la grande quantità magnitudine pecunie sue del suo danaro. Verre pretore sotto il governo di Verre domanda Cicerone rivolto ai giudici. Num in Sicilia senatus consulta et jura communia observata sunt? Forse sotto il governo di Verre in Sicilia sono stati rispettati i decreti, le decisioni del senato e i diritti umani? La domanda è retorica, nel senso che la risposta è implicita nella domanda, ovviamente no. Cicerone continua implacabile con l'elenco delle accuse. Quatt socii fidelissimi in ostium numerum abeo ad scripti sunt? Quanti alleati, quatt socii, fidelissimi, fedelissimi, sono stati annoverati ad scripti sunt? Sono stati inseriti ab eo da lui in ostium numerum tra i nemici, nel numero dei nemici? Quatt cives romani, quanti cittadini romani, in modum servilem, cruciati ac necati sunt? Quanti cittadini romani sono stati torturati, cruciati e uccisi, necati, in modum servilem, come schiavi?